Tu sei l'ultimo della tua stirpe, quello che rimane di una nazione e un tempo potente. Lo sapevo che eri reale. Ho sempre creduto nel tuo ritorno. Tu sei l'unico che può portare equilibrio in un mondo in guerra. Ma alcuni non si fermeranno davanti a niente per distruggerti. E i vostri destini sono legati, Zuko. È in atto una ribellione. Avrà bisogno di te. E tutti noi di lui. Grazie a tutti.